Salta il viaggio di Papa Francesco in Africa, che era previsto a partire dal prossimo 2 luglio. Non si tratta di cancellazione ma di rinvio, specifica il portavoce. Il ginocchio migliora la spiegazione, ma sforzi eccessivi rischierebbero di riportare indietro la situazione e di impedire ulteriori progressi. Ormai da tempo il pontefice soffre di gonartrosi, un'artrosi al ginocchio destro che a fine aprile ha indotto il suo medico personale a consigliargli di non camminare. Problemi che da allora l'hanno anche costretto ad annullare alcune celebrazioni e che secondo i medici richiederebbero un intervento chirurgico. Una soluzione però in apparenza già esclusa dal Papa che in un incontro a porte chiuse con i Vescovi avrebbe manifestato la volontà di rinunciare all'operazione. Quadro sanitario del pontefice e sua agenda personale e condizioni climatiche in Africa potrebbero quindi far slittare il viaggio di oltre un anno.